Carmelo Romeo è il comandante dei vigili urbani di Avigliana, un comune avanti sui temi della mobilità sostenibile? Direi che si può dire proprio di sì, abbiamo iniziato dal 2007 ad affrontare questo tema con un grosso impegno che oggi ha portato dei risultati ottimi. Siamo ad esempio per quanto riguarda il piedibus a sette linee gestite dal comune di Avigliana più una linea autogestita, è veramente un ottimo risultato vedere ragazzini già di 3, 4, 5 anni che camminano con i nostri gilet e con la progettazione anche grazie alla città metropolitana sulle nostre vie. Ecco comandante, i ragazzini sono sensibili, gli adulti ancora non completamente. Avigliana come altri comuni della bassa valle è aderito alla sperimentazione sul carpooling, ma secondo lei gli abitanti di questa valle sono pronti al salto di mentalità sul carpooling? Secondo me bisogna ancora lavorarci molto perché tutti ne parlano, ma poi quando abbiamo visto anche con la zona industriale qua vicino a noi, inizialmente tutti davano delle adesioni, ma quando è stato poi il momento di partire non riescono a far collimare mai gli orari, non si riesce mai a far sì che gli orari aziendali permettano a più persone di trovarsi insieme. Quindi bisogna lavorare prima sulle persone per riuscire a convincerle e poi avere la forza anche di poter agire sulle aziende, perché se tutti fanno degli orari diversificati anche all'interno della stessa azienda diventa complicato.